Buonasera, siamo finalmente con il vero Joseph Calat. Buonasera Joseph Calat, grandissimo, vero, verissimo imprenditore americano. È vero che lei vuole comprare l'ascolo di calcio? Yes, I am Joseph Calat. Volevo comprare tutta la società l'ascolo di calcio. E investire molti soldi, comprare molti giocatori per tornare in Serie A. Grazie, io la ringrazio, quindi noi possiamo aspettarla a braccia aperta, insomma, in un certo senso, o sbaglio? Io entro alla fine di questa settimana, mi trovo a Ringo, a Ringo. Sì, sì, Piazza Ringo, l'hai visto Piazza Ringo, lei? Sì, sì, è piaciuta, più di Foglio. Televisione, televisione. Televisione, Sky, non c'è Sky? Su TV RS e TV A. TV RS e TV RS, ah, in Washington? Yes, yes, I live in Washington. Ah, ok, quindi possiamo stare tranquilli che lei ci salverà assolutamente. Sì, sì, ho parlato con molti tipotti di ascol di calcio. Io venire in Italia, io avere molti, molti soldi e comprare ascol di calcio. Finalmente abbiamo un personaggio che ci può aiutare a risolvere la nostra situazione. La ringrazio, Mr. Cala. Goodbye. You are, you are? You are? I'm Paolo, Paolo. Paolo, Picchio. Are you no Picchio? I am just Cala. Eh? What's Picchio? Picchio? Picchio. I know you Picchio. Ok, Picchio. Thank you, thank you, Mr. Cala. Thank you, thank you. You're welcome. Well, welcome, welcome. Thank you. Thank you.